Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere di presentare un interessantissimo saggio appena pubblicato da Einaudi dal titolo Operazione Buon Governo, un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento di Gabriella Piccini che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite e alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo buon governo. Prego Gabriella, a te. Grazie, grazie a Maurizio Cali che mi ha voluto invitare, Italia Medievale che è sempre attiva nell'informazione e nella presentazione dei libri, oltre che naturalmente molte altre cose. Beh, questo qui è proprio un ultimo nato, nel senso che è in libreria da un paio di giorni, lo faccio vedere, magari già lo vedete, lo pullo un po' fra le braccia perché è il frutto per me di un lavoro abbastanza lungo, abbastanza meditato, diciamo. I libri si scrivono in molti modi, varie fasi della vita, più di ricerca, meno di ricerca. Questo è una specie di progetto provato lungamente nel tempo perché io vivo a Siena dove ho insegnato, tuttora insegno per molti anni e ho sempre subito il fascino storiografico, storico e anche proprio così di diretto impatto di questa grande capolavoro di Ambrogio Lorenzetti che è il buon governo appunto e che si trova nel Palazzo Pubblico del Comune di Siena. Ho sempre subito il fascino perché, come posso dire, mi sono trovata a riflettere più volte sul motivo per cui ancora noi lo guardavamo con tanto interesse a distanza di 700 anni, pur non essendo storici dell'arte, io sono una storica, non una storica dell'arte. C'era qualche cosa un po' di magico in questo magnetismo. E il magnetismo che rende magico questa opera, a mio avviso, dal mio punto di vista, non è solamente quello del bellissimo capolavoro, del grande artista che ha fatto una grande cosa. C'era qualcosa di più. Nella prefazione a questo libro è uscito un episodio che mi ha mosso nel farlo e poi dopo entriamo un po' nel merito, che è aver accompagnato mio nipote, uno dei miei nipoti che allora aveva sette anni, a vedere il buon governo, aver osservato questo bambino che improvvisamente si è messo a ruotare su se stesso e ha guardato le tre pareti, 36 metri di pittura, abbracciandolo in uno sguardo solo. E quindi ho detto, mamma mia, uno sguardo solo allora, non un pezzettino, vedi lì quello ha le corna, quell'altro è bello, quello è negativo, ma lo sguardo d'insieme. E poi la sera il bambino è tornato a casa e ha cominciato a fare le frani versi, le corna, eccetera, ai genitori che hanno chiesto, amore fai il mostro, e lui ha risposto, non faccio il cattivo governo. E allora questa cosa ha ricordato una frase di Domenico Lenzi che io ho messo in apertura del volume e che è diventato un po' lo stimolo per ragionare. Domenico Lenzi, il viadaiolo fiorentino, è un venditore di granaglia, a un certo punto della sua narrazione parla di alcuni affreschi che sono dipinti a Firenze e riferisce di una frase che a suo avviso sarebbe stata pronunciata nel 1329 da alcuni personaggi erano venuti a visitare questo luogo. E la frase è questa, quando gli domandano ma che cosa rappresenta, lui dice ogni piccolo bambolino senza domandare può intendere ciò che la tinta parete manifesta. Quindi ogni bambino da solo senza fare domande può capire questo. E io ho detto mamma mia però che meraviglia, no? Che si è raggiunto questo. E allora da lì è cominciato il mio percorso, il mio lavoro, che era quello di capire perché, che cosa c'era dietro questo mio desiderio di avvicinarmi a questa forza che fa sì che un bambino ne tragga qualcosa quanto indottissimo. Sul buon governo c'è stato un fiume di bibliografia e di storiografia per molti decenni dal primo capolavoro di Nicolai Rubinstein sull'elaborazione del pensiero politico. E quindi dov'è la forza? Per cui il mio nipotino ne ha tratto allora quanto Nicolai Rubinstein oppure noi ne parliamo oggi come se Ambrogio Lorenzetti gli avesse dato le ultime pennellate stamattina, ma non è così perché non eravamo noi destinatari del suo messaggio, ma erano bensì appunto proprio i suoi contemporanei. Quindi il libro è centrato, è un libro di storia che ricolloca il buon governo, lo porta fuori dal mondo solo delle idee e lo porta nel mondo della politica e ripercorre il buon governo come un laboratorio di costruzione di linguaggi della comunicazione politica. Quindi diciamo l'efficacia comunicativa del buon governo è stata al centro della mia attenzione e a mio avviso sta tutto proprio nella capacità di un pittore bravo, di talento, talentuoso, di esporre l'utopia politica e il progetto politico come realizzato e come ancora realizzabile e parlarne a un pubblico abbastanza colto da apprezzare il gioco colletterario delle metafore dotte ma anche composto da tanta gente comune. In questo senso io ho parlato di un rinnovamento del linguaggio della comunicazione politica. Quindi in questo libro diciamo ho voluto vedere non il messaggio del buon governo, quello fuori dalla storia, ne parliamo anche ora, bene, i comuni, ma quello dentro la storia di una città e più in generale della civiltà comunale del Trecento. Un altro tratto che ho cercato di fare con molta convinzione è quello di vedere non il buono, il cattivo, l'allegoria ma tutto insieme questo messaggio e intrecciando questi 36 metri di pittura, 36 metri di pittura in un anno, una cosa enorme, con i 62 versi della canzone che ci sono sotto, in volgare con le immagini in latino, con i verbali delle riunioni che si svolgevano contemporaneamente in quella sala e che sono conservate negli archivi, con la produzione di un testo statutario che in quegli anni viene fatto. Cioè è un'operazione, non è semplicemente un'opera d'arte, è un'operazione di contenuto politico. Non so, vuoi che vada ancora avanti? Qualche domanda da farmi? Sì, sì, volevo chiederti se la committenza è ben definita. Dunque, la committenza non è ben definita nel senso che non abbiamo un momento in cui si dice facci queste cose. Possiamo immaginare, abbiamo a guida ciò che avviene qualche decennio dopo. In genere il comune che cosa fa? Fa una sorta di commissione di esperti in cui ci mette qualche esperto di diritto, qualche esperto di politica, l'artista, e questa è la commissione che accompagna la costruzione del progetto iconografico. In questo caso non l'abbiamo. Sappiamo da alcuni particolari della vita d'Ambrogio che Ambrogio Lorenzetti è considerato un pittore un po' anomalo perché è colto in prima persona. Cioè è un verbale, lui fa parte anche della vita politica, insomma fa parte di un consiglio, ad un certo punto di un consiglio del comune, e esiste anche una piccola verbalizzazione del suo intervento in cui si dice, prese la parola a Ambrosius Laurenzi, su Ambrogio di Lorenzo e di Dixit sua sapienza verba. Disse le sue parole sagge, le sue parole sapienti. E quindi indico, a me, devo dire sorridendo, viene da dire che il notaio verbalizzante non ci ha capito niente e quindi ha detto, ha detto delle cose così intelligenti, non ha riassunto il contenuto, però ci ha detto che questo contenuto era un contenuto di sapienza. Quindi, e questo è confermato anche dal Vasari, insomma, però nonostante possa essere stato colto e dentro alle cose la politica, per cui il governo era sua gente in quel momento, era un pittore di regime sostanzialmente, insomma, stava dentro l'apparato politico, è impensabile che tutto quel apparato iconografico sia stato costruito da lui solo. Però lui è quello che ha capito che lui doveva dare, come posso dire, credibilità fulminea a tutte quelle catene conseguenziali che la politica gli poneva. Sta lì, no? Il suo talento. Di saper presentare come realizzabili i progetti politici. Perché in quel momento Siena vive un momento, che lui dipinge come meravigliosa, vive un momento di crisi consistente, insomma. Cioè, sono stati fallimenti bancari, una serie di carestie, c'è un momento di, come si può dire, di conflitto politico anche in corso. Non è una società pacificata, né una società... Quindi il progetto nasce come un'operazione. Operazione buon governo, come un'operazione politica. Attenti che se fate questo, succede questo. Se fate quest'altro, succederà quest'altro. Gli effetti sono legati ai principi, ai virtù e ai vizi. E questa è una conseguenza che non sempre, è una conseguenzialità che non sempre viene messa in evidenza. Ecco, questa è la sua committenza. è vero, è così, è proprio così. Quella fresco parla da solo, non ha bisogno di interpreti per essere compreso. Se fate in un modo va così, se fate nell'altro va così. Poi ha bisogno anche degli interpreti, perché può essere letto a molti livelli, alcuni coltissimi, ci sono delle metafore a conoscerle, che sono di profondamente colte, però parla anche senza di quelle, può parlare a molti pubblici. C'è la differenziazione dei pubblici, secondo me, che è molto interessante, che è un po' quello che accadeva dall'inizio del Trecento, ma anche dalla fine del Duecento, ad esempio nella predicazione. Io ho fatto anche questo paragone. I predicatori cominciano del sermo moderno, se così detto, comincia a porsi il problema del pubblico, gli interlocutori, e quindi ci sono i manuali che dicono al predicatore guarda che se parli alle donne devi parlare così, se parli a calzolai devi parlare così, se parli invece ai nobili devi parlare in questo modo. Quindi la differenziazione dei linguaggi e la conoscenza dei pubblici è nell'aria in quel momento, in quella fase. E poi naturalmente nell'aria c'è anche il grande scontro ideologico, ideologico, non concluso, tra tirannia e quella che noi chiamiamo signoria, insomma, che lo interpretano con la parola tirannia, tra tirannia e bene comune, tra comune e signoria, tra ben proprio e ben comune. Questi sono i termini che... Perché la parola buon governo non esiste, è un'invenzione di qualche secolo fa, quindi recente rispetto alla storia ai 700 anni e agli affesi. loro utilizzano il concetto di bene comune e ben proprio. E poi tiranno e superbia, giustizia e bene comune. Questi sono i tipi di te. Io poi ho un amore particolare per Ambrogio Lorezzetti, perché... Come si fa a non amarlo? No, ma non solo, poi la mia passione per il medioevo è nata anche guardando gli affreschi della Cappella Rotonda di San Gargano, dove c'è fra l'altro, gli affreschi di San Gargano, c'è una figura di Eva che è chiaramente ispiratrice poi della figura, a differenza di pochi anni, della figura della pace. Certo. Naturalmente Eva è molto più carnale, perché sono queste figure semisdraiate, tutte e due, quindi in posizione abbastanza anomala, un'invenzione anche l'iconografica forte, solo che Eva è addirittura, è bellissima anche un po' sguaiata, diciamo non sguaiata, disinivita, molto disinivita, la posizione delle gambe, coperta da una pelle, ha in mano un fico, tutte simbologie, dice io ho fatto peccato, ho fatto peccato, perché così nasceva Tredentore. E dall'altra abbiamo questa pace che è nella stessa posizione, con il braccio appoggiato così, semisdraiata, però che è un po' molto languida anche quella, è una figura molto femminile, molto languida, però guarda lontano, ha questa corona con tutta, addirittura ci sono nella corona di Olivo della Pace, ci sono i segni della mignola, cioè dell'infiorescenza primaverile, che lì secondo me dà un segno anche della stagione in cui Ambrogio ha dipinto, l'infiorescenza primaverile. Perché poi ecco, un'altra cosa con la quale mi sono divertita molto è andare a cercare le verità che Ambrogio mette in questa tua immagine, sia quella bella che quella brutta, perché secondo me non è solo un talento, un gusto suo, però, però, scusate, non è solo un talento, un gusto, ma è anche un, come posso dire, un linguaggio appunto, anche quello, con alcuni particolari molto interessanti, ne faccio uno, poi se no duro troppo a lungo, nella bottega del calzolaio si vede un ragazzino, che è sicuramente un'apprendista, che imbocca qualcosa, perché? E io mi sono spesso chiesta, ho parlato con calzolaio anziani, e dico, ma c'era questo uso di masticare il cuoio, e insomma non tiravo fuori molto, dopodiché mi ha aiutato l'antropologia, anche l'archeologia, e sono venuto a capo di questa cosa, c'è un uso, c'è un uso nel, la cosa è questa, nell'uso artigiano, esisteva, esiste tuttora in certi paesi, il terzo mondo, l'abitudine di utilizzare la bocca come terza mano, che vuol dire ad esempio, io sono il calzolaio, e tengo in bocca i capi del filo dello spago, oppure l'utilizzo per tenere i chiodini, che poi metterò uno o uno nella tomaia, e fra questi usi che esistono, c'è anche quello di masticare il cuoio per ammorbidirlo, adesso in certi paesi il terzo mondo è affidato alle donne più povere delle comunità di villaggio, e questo provoca un'usura dentaria molto forte, che gli archeologi hanno riscontrato in alcuni scavi che io ho segnalato italiani, quando hanno scavato delle abitazioni di calzolai, quindi l'uso di masticare il cuoio, per ammorbidirlo prima di cucirlo, è un momento in cui Ambrogio Lorenzettia ha dipinto una verità, perché se io vi voglio essere credibile quando vi do un contenuto comunitico, devo essere anche credibile quando descrivo, se viene a bere un calzolaio, deve capire che io conosco la sua vita, come posso dire, è un linguaggio di comunicazione politica che è fatto anche di queste cose, oppure ci sono dei particolari nel gioco della sapienza o nella bilancia, che rendono quegli oggetti, sembrano usciti, sembrano il modellino di un carpentiere o di un fabbro, sono perfetti, perfetti. Nel gioco della giustizia c'è anche, ci sono disegnate anche le piccole tacche, che nel gioco di legno servivano a spostare più a destra e più a sinistra l'anello dove stava la bure dell'aratro, per equilibrare il peso dei buoi quando uno tirava più dell'altro. Anche questo è stato frutto naturalmente di uno studio oggetto per oggetto che ho cercato di fare per capire se davvero era una veridicità, cioè loro, questi pittori, erano immersi in una realtà che conoscevano perfettamente. A noi aiutano a colmare la distanza tra noi e loro, ma per loro sono la conoscenza della tecnologia del loro momento e lui lo utilizza tutta. Ho fatto il paragone con la bilancia di Giotto, lo stupendo Giotto, a cui lui si ispira molto, la bilancia della giustizia di Giotto è una bilancia stilizzata, sono due ferri, così simbolo e basta. La bilancia di Ambrogio potrebbe, sembra uscita, la mattina lui l'ha vista nel mercato e l'ha riprodotta. È un amore per i particolari che è fortissimo e che è funzionale al linguaggio politico. E poi questi esempi sono moltissimi, ma non si può fare tutto. No, infatti, ma è davvero incredibile, è una fotografia, è come se lui avesse fotografato i particolari. E poi li ha rimessi insieme come se lui avesse il suo taccuino d'artista e poi ha rimesso insieme questi particolari. Una, una, ti racconto solo quest'ultima perché mi pare, a me ha incuriosito molto, in alto, in un punto che vedeva solo lui, quindi quello è veramente un divertissement, c'è una gabbietta ad un uccellino. Sul fondo di questa gabbietta all'uccellino io ingrandendo queste immagini molte volte ho cominciato a vedere che era disegnato qualcosa. Ho visto questo disegno, l'ho ingrandito, l'ho paragonato, ho capito che è la riproduzione del gioco del filetto, il gioco del tris, è la scacchierina, diciamo, e ho detto, ma perché in fondo alla gabbietta? Al solito scavi archeologici mi hanno portato l'abitudine a disegnare il gioco del filetto sui fondi delle brocche, delle ceramiche. Perché? Perché se si rompeva poi la voltavano, non lo usavano, oppure semplicemente perché ogni tanto le voltavano questi oggetti e ci giocavano sopra e poi li riportavano al loro uso, quindi particolari, affascinanti quanto il grande messaggio politico che viene dato, insomma. Senti, io non posso far altro che invitare tutti a chi ancora non l'ha fatto ad andarselo a vedere dal vivo perché è un'esperienza eccezionale, ma se andando a vederlo dal vivo ci vanno con il tuo libro, sicuramente vivono un'esperienza unica. Quindi ricordiamo il titolo che è Operazione Buon Governo, Un laboratorio di comunicazione politica nell'Italia del Trecento, appena pubblicato da Enaudi, di Gabriella Piccini, che abbiamo avuto il grandissimo piacere di avere nostra ospite che ce n'ha parlato. Quindi io ti ringrazio tantissimo per questo. Ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima videopresentazione. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.